Sì, sì, abbastanza. Sì, sì, sì. Sì, sì, sicuramente in un paio di mesi, perché in un paio di mesi, perché questo iniludibilemente va a passare per la corte, ci siamo a tener al cittadano italiano in India. Sì, se vuole essere extradito, dice, ovviamente non. E quindi stiamo aspettando per la scuola quando arriva. Sì, sì. No, non è. Sì, sì. Non mi raccomanda, non mi raccomanda. Penso che è la forma che ho deciso di agire. Non mi raccomanda, ma bisogna rispettare la corte, ma bisogna rispettare la corte, diciamo, siamo in Argentina e abbiamo bisogno di seguire i luoghi. Ciao. 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 Ciao.